Allora, fondamentalmente è appena finito l'evento di Apple di marzo che tutti aspettavamo, tutte quante le previsioni che avevamo fatto si sono automaticamente avverate, come al solito e come dicevo prima Apple non riesce veramente più a tenere al segreto un bel nulla, assolutamente niente, davvero si è avverato tutto quanto e quindi sono partiti con, vabbè, a parte il pippone solito sull'elfi, i ricercatori, le strontate, ecce, 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 di cui non frega niente a nessuno se non ai ricercatori stessi e ai loro pazienti, figata ragazzi, molto bello, importante, però non eravamo qui per sentire quello. Si è passato poi, se non ricordo male, all'Apple Watch e quindi dell'Apple Watch non ho detto praticamente nulla se non il fatto che sono arrivati dei nuovi braccialetti con dei nuovi materiali che io ho assolutamente ignorato perché non me ne fregava nulla, a quel punto si è passati, ho una memoria veramente infame, non mi ricordo più, dopo si è passati, ah sì, all'iPhone SE, anche qui sapevamo tutto quanto, speravo ardentemente, ricordo l'iPhone SE non è altro che un iPhone da 4 pollici, ovviamente hanno detto di quanto è importante avere ancora in line up un iPhone piccolo da 4 pollici perché le vendite sono ancora tantissime, perché soprattutto nel mondo iPhone la maggior parte di quelli che comprano i 4 pollici, che fino a ieri era semplicemente il 5S per intenderci, dicevo la maggior parte di quelli che comprano iPhone da 4 pollici è gente che viene dal mondo Android in cui i telefoni smartphone da 4 pollici praticamente non esistono, quindi Apple che non è scema, cosa ha fatto? Ha aggiornato fondamentalmente il 5S, l'estetica è praticamente identica, hanno cambiato l'hardware interno, hanno messo il nuovo chip A9 e M9, cioè praticamente gli stessi processori e hardware presenti nell'ultimo iPhone 6S, quindi questo nuovo fantomatico iPhone SE non è altro che un... immaginatevi esternamente un iPhone 5S con gli interni di un 6S, credo che sia una buona notizia per quelli che apprezzano di più telefoni piccoli, personalmente avrei preferito che aggiornassero anche il design magari uniformandolo ha il nuovo design più tondo e più bello, secondo me, degli iPhone 6 e dell'iPhone 6S, però fatto sta che hanno fatto questo, in realtà è anche una buona notizia perché immagino che rimangono compatibili tutti gli accessori, c'è a dire anche questo, tra questo nuovo iPhone SE e i vecchi iPhone 5 e 5S, cosa sicuramente gradita ai nuovi compratori di iPhone, finito l'asse che è tutto qua, si è parlato chiaramente di iPad, prima un po' di pippone su quanto è figo e quanto è venduto bene e quanto è apprezzato l'iPad Pro, perché? Perché il nuovo iPad in realtà è una semplice evoluzione in piccolo dell'iPad Pro, cioè ha le stesse caratteristiche tecniche, stesso schermo super sbuccione con rilevazione dei colori esterni e quindi auto adattamento dei colori e calibrazione automagica di tutto quanto, quattro casse quindi multistereo ai quattro angoli, gran figata questa come l'iPad Pro, supporto per l'Apple Pencil, altra figata per chi apprezza questo tipo di cose, so adesso a parte gli scherfi tantissimi illustratori hanno mollato Wacom per passare a iPad Pro, perché funziona molto bene, a me piace prendere per il culo Apple, però in realtà i prodotti li sa fare e li fa alla grande, e quindi questo nuovo iPad pensavamo avesse un nome particolare, invece alla fine è stato detto che si chiama semplicemente iPad Pro come l'altro, quindi uno è l'iPad Pro da 13 e questo è l'iPad Pro da 10 o 9.7, chiamatelo come vi pare, costerà 100 dollari in più rispetto all'Air 2, quindi 599, fondamentalmente 600 dollari, in Italia probabilmente, dico io, poi non lo so, grazie alle tasse di importazione dovrebbe costare attorno ai 615, sicuramente fanno questa base da qua, fanno un rapporto 1 a 1 e ci aggiungono un 15 euro, così tanto per gradire, 615, 625 vedrete che più o meno costerà così, o magari invece 599, non lo so, euro, comunque abbastanza, io lo vorrei comprare, vedrò come fare, anche perché il 599 parte il 16 giga, non c'è il 32 giga, questa è la nuova ormai politica di Apple che porta avanti, quindi niente, 32 giga, si passa dal 16 al 32 con 100 dollari barra euro in più, quindi l'iPad Pro 10 pollici costerà in teoria 10 pollici da 64 giga, che è quello che vorrei comprare mio, costerà 715 euro e quindi scaffale per quanto mi riguarda, magari più avanti usato, che cacchio ne so, oppure se qualcuno di voi in diretta vuole mandarmelo gratis, non è un problema, scrivete a redazione-leganer.com, le donazioni sono sempre ben accette, e a parte questo, cos'altro è stato detto? Fondamentalmente nulla, le solite camicie inguardabili, outfit veramente imbarzanti di Apple, questa volta i presentatori erano praticamente tutti uomini, tranne se sono giocati la carta donna sulla prima parte legata all'environment, che hanno fatto durare una buona mezz'ora, perché la carta donna, ricordiamoci, è molto importante per la gender equality, che è molto sentita in America, e quindi usiamo donne sul palco, anche se in realtà non contano un cazzo in Apple, ma mostriamo che le donne sanno presentare anche i keynote, e parlano di cose importanti, quanto quali la nostra attenzione all'environment. Nient'altro, vediamo se ci sono commenti stupidi da parte vostra, gli ultimi, cos'è sta cosa della gente che lascia Wacom per passare iPad Pro? E' quello che ho visto, moltissimi apprezzano il più, soprattutto in mobilità, utilizzo dell'iPad Pro invece che di vari nuovi Sintiq, la realtà funziona molto bene, non ha bisogno di cavi, funziona a batteria, e in più è anche un iPad, quindi è un win totale, non gli spodire un cazzo su questo. Gerardo, in trottura Ferrara, presentiamo il nulla cosmico e vi abbandoniamo, ciao e comprate iPhone SE, che non dovrebbe piegarsi questo. Molto bene Gerardo, un riassunto perfetto. Nulla cosmico, tra l'altro è un mio copyright, se l'uso ancora sei un brutto stronzone. Elisabetta Nirvaciammatonti, facci contento con un ultimo salutone alle donne, dai. Ciao a tutte le donne, siete molto importanti per Apple. Vai ragazze, continuate così. Sì, nessuno è ai top level di Apple, però li mettiamo comunque sul palco, così non ci rompono le palle le associazioni di categoria. Giulio Vessicco Badino, in sintesi iPad Pro piccolo, iPhone piccolo e... E nient'altro di interessante, se non quattro braccialetti per l'Apple Watch. Praticamente le stesse robe che, sapevamo, sarebbero arrivate. E quattro cazzate sulle app e altre robe. Stefano Pischedda, invece, lascia il commento migliore della giornata che è... Stiobzogzoi, molto bene Stefano, è stato un piacere, torna a prendere le tue pillole, è importante prenderle tutti i giorni. Paolo Furlan, comunque mi pare che abbiano cancellato il 16GB. No, non mi sembra, il nuovo iPad Pro da 10 pollici parte anche lui da 16GB, e poi 64GB, e poi 128GB, e poi 256GB. Armando, ammirata, grande di Tommy, grande Armando, molto bene, i commenti sono sempre apprezzati. Ragazzi, continuerò a stare in diretta all'infinito leggendo i vostri commenti fino a quando mi direte che sono un grande. Quindi ad Apple, Giulio Vessicco Badino, quindi ad Apple, sono tutti micro dotati, è probabile, d'altronde, a vedere le camicie, questo è? 32, 128, 256GB. Mi dice Pasquale, invece, 32, 128, 256GB. Quindi non avevo capito un cazzo, aveva ragione, non mi ricordo più, sì, Francesco, cecco, conferma il 16GB non c'è, avete ragione voi, ho detto una cazzata, e quindi il prezzo base di prima parte dai 32GB. Scusate, a volte mi scappano cazzate, anche a me, solitamente dico solamente cose molto intelligenti e molto sul pezzo, però a volte purtroppo anche a me scappa di dire una cazzata. Mi aspettavo il 4 pollici con lo stesso design del 6S e con 3D Touch, e invece, hai ragione Fabio Spinelli, anch'io mi aspettavo che almeno il design lo cambiassero, invece niente 3D Touch, da quello che ho capito, però c'è il Touch ID. Jacopo Alessi, pensavo avessero presentato un nuovo braccialetti fluo per entrare in omaggio alle feste, invece erano per l'Apple Watch. Esatto, fingerò di aver capito di cosa stai parlando. Francesco Cecco Rampionesi, adesso flagellati, dopo mi flagellerò in diretta per gli amici cattolici in ascolto. Luigi Tedde Gattinobite, Luigi anche tu è importante prendere le proprie pillole tutti i giorni, ascoltami, fallo ora, Luigi smetti di lasciare questi commenti in diretta con noi. Non ci sono più commenti, sto per staccare perché ho largamente rotto le palle e mi avete fatto prendere un colpo. Vediamo altri commenti, volevo dei nuovi MacBook Pro, EduDrum non hai capito un cazzo, si sapeva benissimo che i MacBook Pro non li avrebbero presentati oggi. Enrico Imbroglia, 2017 conferenza nel nostro mega ipercento antistracioni, da dove guarderemo i vostri soldoni che riempiono le nostre tasche. Esattamente Enrico è quello che stanno facendo, stanno costruendo la sede definitiva alla faccia nostra. Un nuovo commento, Michele Bovio, scusate ma sono usciti i Mac, no Michele non è uscito un cazzo di computer, hanno parlato unicamente del nuovo iPad, del nuovo iPhone piccolo e nient'altro, fondamentalmente sono quattro braccialetti. Giuseppe Matarazzo, io mi sto facendo la manicure a New York, se commento mi tieni compagnia. Giuseppe è importante fare la manicure a New York ed è anche molto gay da parte tua a farlo, non che io abbia nulla contro i gay, ma è evidentemente un'informazione che a noi interessava tantissimo sapere e ti ringrazio moltissimo per averla condivisa con noi. Vito De Campi, no, non è uscito niente, niente esatto, niente di PC, Mac, iMac e cazzate simili. Allora, vi lascio, Vito De Campi, chi è che ride? E qui il mio compare di fianco che continua a ridere di fianco a me. Giuseppe Matarazzo, scherzi a parte, ormai il taglio a 16GB era inutile, comprarlo è stato un errore, condivido la politica da 32GB. Sono d'accordo con te, i 16GB sono veramente molto pochi, rischiate davvero di non poter più installare applicazioni o di non installare tutte le applicazioni che vorreste, quindi vi consiglio caldamente di comprare almeno un 32GB quando esiste o a quel punto 64GB. Io ho un iPhone 6 64GB da un paio di anni e... grande. Ma chi c'è? Matley Lisa D, Fabio Tedeschi, immagino tu ti riferisca alla persona priva di risata decente al mio fianco e assolutamente sì, assomiglia alla risata di Matley, lo prenderemo in giro per tutta la vita. Teresa Toscano, farai un recap sul sito? Mi tocca, adesso vado a casa, non so che ore sono... Che ore sono? Che ore sono? Sono? Provo a guardare l'ora sul mio Nexus 9 che per sbloccarsi ci mette 10 secondi, sono le 7 e 16, adesso me ne vado a casa a scrivere per mia grande gioia il riassunto delle 4 cazzate dette durante il keynote, ci metterò probabilmente 5 minuti netti e quindi la troverete domattina o questa sera, probabilmente è più probabile domattina su leganerd.com, il mio riassuntone di tutte le robe dette durante questa interessantissima live di Apple in cui non è stato svelato niente che non sapessimo già. Sono orgoglioso della mia risata, Pasquale si autocommenta, Alessio Lo Savio, sono appena entrato in diretta, che novità porta iOS 9.3? 4 cazzate 4, veramente niente di veramente interessante. Sì, l'hanno presentato invece Pasquale, smetti di parlarmi sotto dicendo cazzate. Giuseppe Cannata, ma come fa ad esserci ancora luce lì? Allora, Giuseppe c'è questa cosa che si chiama luce, praticamente grazie all'energia elettrica siamo in grado di illuminare l'ambiente, è una cosa riservata a noi di Lega Nerd, non la dire in giro. Giuseppe, Stefano Pischi ed è indifferita. Ok, continuate pure a dire cazzate in mia assenza, a questo punto la diretta si ferma, vi lascio solamente con una informazione indispensabile è che... è... Grazie a tutti.